Peppe Iachini potrebbe trovarsi di fronte alla vera occasione della sua carriera. Allenatore di provincia, rinomato per sapere come condurre le barche in porto, non sempre in realtà c'è riuscito, è stato capace di portare quattro volte le sue squadre dalla B alla A, ma in carriera ha anche esoneri e retrocessioni. In massima divisione comunque si è anche salvato tre volte. A Chiavo nel 2008 conquista la massima serie e poi viene cacciato. Dopo tre parentesi con il Brescia, una promozione, un successivo esonero, quando viene richiamato a gennaio al posto di Beretta, retrocede in B. Nel 2011 la Sampdoria, traghettata in A, non comincia però neppure il campionato, la società fa altre scelte. Nel 2012 sceglie allora il Siena a dicembre, ma non riesce a salvare i bianconeri dalla cadetteria. Si rifà con il Palermo, dove conquista una promozione in A. Subito esonerato a novembre, Zamparini lo richiama a febbraio, ma dura poco. Dopo un mese, Iachini sceglie di dimettersi. O ai Ludinesi, ma anche in Friuli non dura molto, da maggio a ottobre del 2016. Dopo un anno di inattività, va a Sassuolo, dove sostituisce Bucchi e entra a novembre, salva la squadra, ma non viene confermato, rescindendo a fine stagione. L'ultima avventura a Empoli. Corsi lo sceglie a novembre del 2018, al posto di Andrea Zoli. Iachini traghetta la squadra fuori dalla zona di retrocessione, ma quando è al quarto-ultimo posto, a sorpresa, il presidente richiama Andrea Zoli, che poi non riesce a salvarsi. Ora, per il tecnico con il cappellino, potrebbe esserci l'occasione della grande rivincita, sempre in Toscana, sul più nobile dei palcoscenici.